Bene amici bentornati, oggi un contenuto un po' diverso dal solito, vi porto sì sul set di uno shooting ma andiamo a vedere quella che è stata la post produzione, si è trattato in particolare di uno shooting per una band metal di cui posso assolutamente fare il nome perché il lavoro è uscito ormai diversi anni fa, loro sono i Black Phantom, una band che è attiva nella provincia di Milano per cui abbiamo realizzato diversi lavori, vi faccio vedere il primo shooting che è stato realizzato per il loro disco di esordio, disco che è andato molto bene e che a me piace moltissimo, ogni tanto ancora me lo ascolto ed è nella mia libreria sia su Spotify che nella mia libreria fisica, quindi assolutamente consigliatissimo, ottimi musicisti, ottima musica se vi piace il metal ovviamente. Come vi dicevo non vi porto tanto sul set dello shooting perché lo shooting sì si è svolto all'ex manicomio abbandonato di Limbiate quindi vi posso dire questo e vi posso dire che la fotografia in questione è stata scattata con un flash a slitta che era puntato sul soffitto quindi l'illuminazione è quella base della stanza però è stata data una luce di schiarita perché è una foto in controluce quindi per avere l'esposizione corretta sia sulle finestre sia sulle persone che stanno all'interno della stanza ho usato un flash di schiarita per amalgamare un po' il tutto per togliere un po' di ombre. Vi posso dire questo sullo shooting, vi posso anche dire che stavo scattando con una Canon EOS 6D e che stavo utilizzando il mio bellissimo 24-70, la versione f2.8 non stabilizzata ovviamente serie L, lo stavo utilizzando credo proprio a 24 mm perché per prendere la stanza intera con queste persone schiarate sicuramente avrò usato il 24 mm quindi il grand angolo pieno che mi consente quest'ottica. Senza soffermarci troppo sullo shooting che ormai è storia passata e non me lo ricordo nemmeno più tanto bene perché sono passati ormai diversi anni credo che fosse il 2016. Voglio soffermarmi un pochino di più su quella che è stata la post produzione in particolare per questa immagine. Questa immagine che vi faccio vedere è l'interno del booklet, è la doppia pagina che sta all'interno del booklet che è stato stampato diversi anni fa e è ancora in circolazione sul mercato, si sta addirittura pensando alla seconda ristampa. Vi voglio parlare di questa immagine perché avevo fatto un mini video sull'editing di questa foto anni fa, quando uscì il disco appunto, era un video muto in cui non c'era sostanzialmente nessuna spiegazione. Di recente un mio follower mi ha fatto notare che è un contenuto molto interessante e che avrebbe voluto vedere un pochettino più nel dettaglio quello che è stato il lavoro su questa immagine. E siccome io vi ascolto, ho pensato di realizzare questo contenuto per farvi vedere effettivamente che cosa è stato fatto su questa immagine. Ora, io non ho più i file sorgente originali di questa immagine, quindi vi farò vedere quello che è stato fatto e cercherò di replicarlo anni dopo facendovi vedere quello che è il procedimento, quello che è il flusso di pensiero per arrivare all'immagine finita e quelle che sono comunque le tecniche che ho impiegato per arrivare all'immagine finita. Come vi dicevo, non sono più in possesso dei file originali di molte cose che ho utilizzato. Allora, la foto originale ce l'ho, perché della foto originale io ho conservato il file RAW, l'export in JPEG, il progetto in PSD, quindi ho tutto. Nel senso, questo ci tenevo che fosse chiaro, cioè se la band mi chiede una riedizione del prodotto, io ce l'ho, ci sono, sono sul pezzo. Quello che mi manca sono le immagini in più, le immagini di stock magari che ho scaricato da qualche piattaforma, quindi magari le texture che ho aggiunto, gli overlay che ho aggiunto, quelle sono cose che non ho più perché non le ho conservate. Diventerei matto a conservare tutto quel materiale, quindi una volta terminato il progetto, gli overlay piuttosto che le texture, piuttosto che diciamo che, a meno che io non trovi degli asset così validi da dire, li voglio includere nella mia library, al termine del lavoro tendenzialmente li butto. Tanto poi per il prossimo lavoro o userò qualcosa dalla mia library o, se vorremmo variare, prenderò qualcos'altro, sempre di stock, fornito dal cliente, pagato da me, incluso nel prezzo. Si vede di volta in volta, però il punto è che per questa specifica foto molti degli asset non sono più in mio possesso, quindi ne sto utilizzando degli altri per farvi vedere quello che è stato fatto. Andiamo a incominciare. Bene amici, eccoci qui all'interno di Photoshop. Abbiamo due immagini, una che è già terminata e un'altra di lavoro su cui andremo a lavorare. La prima cosa che vi faccio vedere che è stata fatta su quest'immagine, quindi vado sull'occhiolino, tengo premuto il tasto alt e clicco così nascondo tutto tranne il livello che sto guardando. La prima cosa che vi faccio vedere è che lo sfondo è stato pulito. Come potete vedere qui c'è un livello su cui è stato pennellato con il timbro clone e con lo strumento top e con altri metodi per eliminare tutti i graffiti indesiderati che c'erano sulle pareti. Quindi questa è la prima cosa che è stata fatta. Nell'immagine di lavoro non sto neanche a farvelo vedere perché queste modifiche sono già state fuse su un unico livello. Quindi procediamo, andiamo a duplicare il nostro livello, andiamo a selezionare filtri, altri e high pass o accento a passaggio in italiano mi pare che fosse. Andiamo a scegliere i parametri in base alle dimensioni della nostra immagine. Vogliamo che i contorni siano visibili ma non troppo. Un 2 dovrebbe andare bene. Ora andiamo a selezionare overlay o sovrapponi come metodo di fusione e vediamo che quello che è successo è che abbiamo dato un po' di nitidezza in più alla nostra immagine. Questa è una cosa che io faccio spesso. Se risultasse essere troppa possiamo diminuire l'opacità di questo livello in maniera tale che non sia troppo affilata. Prossima cosa che andiamo a fare, e mi tengo la mappa dell'immagine finita per ricordarmi quello che ho fatto, quindi andiamo a riattivare questo che era il nostro sfondo con l'high pass. La prossima cosa che è stata fatta è che è stato inserito uno sfondo, una trama sul pavimento. Io non ho più le risorse originali che sono state utilizzate per questo progetto per cui ho preso delle altre immagini da internet semplicemente per fini dimostrativi. Quindi vado a selezionare la mia foto di lavoro, vado a prendere la mia immagine della terra essiccata, vado a posizionarla in maniera consona. A questo punto lavoriamo di maschere perché io la prima cosa che voglio fare è relegare questo livello alla sola area del pavimento, più o meno in questo modo. Un'altra cosa che faccio è che voglio eliminare le informazioni del colore da questa immagine, voglio che vengano fuori solamente le ombre, per cui creo un livello di regolazione bianco e nero e lo clippo all'immagine sottostante. In questo modo abbiamo eliminato le informazioni del colore da questa immagine. Quest'immagine però è piena, noi non la vogliamo piena, per cui intanto gli do un metodo di fusione moltiplica, così diventa semitrasparente e vediamo quello che succede sotto. Faccio doppio clic nell'area vuota intorno al titolo del livello, così apro il pannello dei layer style e qui uso le opzioni blend if, in particolare tenendo premuto alt spezzo queste due maniglie, le separo e porto tutto a sinistra la prima maniglia e un po' a sinistra la seconda maniglia, a seconda dell'immagine che ho scelto avremo dei risultati diversi. Quello che sto facendo è che sto eliminando le informazioni chiare da questo livello, dal livello della terra, in maniera tale che rimangano solamente le informazioni molto scure, quindi le crepe per intenderci. A questo punto l'unico problema è che parte delle crepe si vedono anche sui vestiti, io qui andrò a prendere un pennello nero e andrò a pennellare sulla maschera in maniera tale da eliminare queste informazioni dove non voglio che siano visibili, quindi in particolare dai pantaloni dei nostri personaggi e dal muro, perché io queste crepe le voglio sul pavimento ma non le voglio sul muro, perché diventa poco realistico usare lo stesso livello per entrambi, quindi qui lo sto facendo abbastanza male e di fretta perché è per spiegarvi il procedimento, ovviamente nel momento in cui andate a realizzare un artwork con questa tecnica lo fate bene curando tutti i dettagli e magari facendo anche uno scontorno con il lazzo dei personaggi, cosa che avevo sicuramente fatto in questo caso, perché come vedete questi personaggi sono sostanzialmente scontornati, quindi se lo vogliamo fare bene lo facciamo bene, io adesso ve lo faccio vedere alla buona perché è una dimostrazione. Prossima cosa che andiamo a fare, andiamo quindi a creare queste luci che penetrano dalla finestra, ora queste sono state fatte molto semplicemente creando un livello nuovo, io creo un nuovo livello, prendo lo strumento lazzo, magari lo strumento lazzo poligonale, ma io per usare il lazzo poligonale di solito tengo premuto alto così ottengo esattamente la stessa cosa, vado sostanzialmente a disegnare il mio fascio di luce che quindi prende l'intera finestra, vado a riempire quest'area con del bianco, ovviamente fa schifo fatto così, quello che andiamo a fare adesso però, andiamo su filtri, sfocatura e box blur, ora qui andiamo semplicemente a dargliene un amount che ci sembri gradevole, che ci sembri in linea con quello che vogliamo, in questo caso io gli do un bel 32, ovviamente non abbiamo finito, ovviamente andiamo a selezionare screen come metodo di fusione, andiamo a lavorare con una maschera perché adesso andiamo con un bel gradiente a dargli, vedete, questo tipo di sfumatura in modo che l'ombra sembri penetrare dalla finestra, e questo è il prima e questo è il dopo, ora creiamo un secondo livello, andiamo a fare la stessa cosa, quindi andiamo a prendere di nuovo col lazzo poligonale, andiamo a selezionare la finestra, andiamo a inserire un effetto di questo tipo, una forma di questo tipo che andiamo prontamente a riempire col bianco, andiamo su filter box blur, gli ridiamo esattamente lo stesso amount, gli ridiamo screen, andiamo ad aprire una maschera e di nuovo con un gradiente che ho scordato di dirvelo ma bianco e nero, quindi abbiamo il nostro gradiente classico, nero da una parte e bianco dall'altra che serve per lavorare sulle maschere, in questo modo riusciamo a ottenere un effetto di questo tipo, di nuovo qui dovremmo andare ad agire sulle maschere con un pennello o con una selezione di qualche tipo per andare a rimuovere un po' di questo bagliore dai nostri personaggi, perché i nostri personaggi sono davanti alla luce e quindi non riceveranno tutta questa luce frontalmente ma ce l'avranno alle spalle, quindi io posso agire semplicemente in questo modo, se avete una maschera, uno scontorno fatto bene dei vostri personaggi, cosa che auspico sempre, meglio ancora, è molto meglio fare una selezione all'inizio che poi va bene sempre, in maniera tale che poi si usa sempre quella, qui vedete vado a fare la stessa cosa perché le nostre figure non devono avere tutta questa luce addosso, ne devono avere molta di meno perché è un controluce, quindi dovrebbero essere scure, la luce qui come vedete rimbalza sui lati dei nostri personaggi ma non in faccia, quindi ecco, così abbiamo tolto la maggior parte, togliamo anche un po' da qua, in questo modo, ecco fatto, ora tutta questa roba la raggruppiamo e qui possiamo vedere un prima e un dopo e abbiamo già fatto un bel passo avanti, andiamo a vedere cos'altro è stato fatto su questa immagine, bene è il momento di rendere le cose un po' più piccanti andando a inserire un pochino di texture per rendere un po' più artistica la nostra immagine, in questo caso sono riuscito a recuperare le texture originali perché erano già nel progetto e quindi le ho esportate così come erano, andiamo a importarle dentro nel nostro progetto di lavoro, vi sembreranno un po' strane viste così, tuttavia quello che adesso andremo a fare, intanto vi faccio vedere con cosa stiamo lavorando, fondamentalmente qui abbiamo un'immagine trasparente, quindi un'immagine in cui i pixel esistenti sono solamente queste sporcature ai lati come potete vedere all'interno l'immagine è forata e non contiene informazioni, per questo motivo possiamo utilizzarla in questo modo, possiamo utilizzarla come una cornicetta da essere messa intorno alla nostra immagine, ovviamente così è troppo forte, quindi andiamo a usare il metodo moltiplica così eliminiamo le informazioni sulla luminosità e teniamo solamente le informazioni scure, andiamo a diminuire un pochino l'opacità perché è sicuramente troppo forte in questo modo, andiamo a lasciarla intorno al 40% così rimane un effetto appena accennato che va a incrementare la sensazione di grunge in questa immagine, andiamo ad aprire il nostro secondo livello, in questo caso il livello è veramente molto sporco, quello che andiamo a fare adesso è che andiamo a, tenendo premuto command, vedete che compare il simbolino di selezione, andiamo a selezionare i pixel esistenti di questa prima immagine, stiamo sulla seconda immagine e creiamo una maschera con esattamente quei pixel, adesso quello che andiamo a fare, premiamo command T quindi andiamo a trasformare la nostra immagine e la ruotiamo di 180 gradi, così abbiamo un effetto un pochettino diverso sulla texture, adesso andiamo di nuovo a diminuire l'intensità di questa, in maniera tale che colori in maniera lievemente diversa, possiamo giocare con i metodi di fusione, quindi possiamo dargli un overlay piuttosto che un moltiplica, in questo caso punterai su un overlay per non scurire troppo ai bordi e il risultato finale che abbiamo ottenuto è più o meno questo, per cui siamo passati da questa che era l'immagine di partenza, lo scatto originale senza sostanzialmente nessun ritocco, se non le modifiche sui muri per rimuovere i graffiti, siamo passati a questa immagine finita, ovviamente rifacendola dopo tanti anni, perché sono passati diversi anni, qualcosina è cambiato sia nel mio modo di lavorare sia nelle immagini che ho scelto, in particolare qua mi rendo conto che c'è un pochino troppo nero qui sopra, quindi adesso vado a schiarire un pochettino qua, ecco fatto, e anche un pochettino qui e magari... ok. Ora andiamo a vedere com'è cambiata l'immagine nel corso degli anni, perché questo qui è il lavoro che è stato fatto nel, mi pare che fosse il 2016, quindi un bel po' di anni dopo, perché al momento in cui registro questo video siamo a fine 2021 e vediamo com'è cambiato il mio edit di questo lavoro. Fatemi sapere in un commento quale preferite, perché può anche essere che molti mi dicano che preferiscono questo secondo. Una cosa è sicura, rifacendolo adesso con la mappa di quello che avevo fatto e comunque con tutti gli anni di esperienza in più, ci ho messo molto ma molto di meno a realizzare questa, come avete potuto vedere si tratta di pochi minuti, mentre la prima volta ci avevo lavorato parecchio perché avevo cercato delle soluzioni che potessero andare bene. Per quanto riguarda la resa finale, devo dire che questa seconda che ho realizzato mi piace globalmente di più, perché mi sembra più tenue, più fine rispetto a questa che era un pochino più sparata. Quello che non mi fa impazzire, devo dire la verità, sono le crepe nel pavimento, nel senso che in questo caso forse sono troppo profonde, però questo dipende unicamente dalla scelta dell'immagine e voglio essere onesto con voi, non ho dedicato molto tempo alla selezione di questa immagine perché questo non è un lavoro pagato, non è un lavoro che mi è stato commissionato, ma è solamente una dimostrazione per voi, quindi non sono stato a impazzire a cercare l'immagine perfetta che stesse benissimo, me ne ho trovata semplicemente una che funzionasse. Questo è quello che si fa di solito quando si realizza un'immagine di copertina per una band con delle pretese medio-alte, perché comunque qui non si tratta semplicemente di fare le foto, questa era semplicemente la foto, qui abbiamo un editing che porta fuori determinate caratteristiche oltre a un lavoro di pulizia dei muri, che quello è stato veramente massivo perché i muri erano completamente coperti dai graffiti, quindi recuperare una texture pulita non è stato per niente facile, in alcuni casi ho dovuto prendere delle texture di muri sporchi in più da aggiungere in certe aree, tipo questa patch è quasi sicuramente un'area grange che io ho aggiunto per coprire un muro che era irrimediabilmente coperto di graffiti, gran parte del lavoro è stato quello per l'appunto. Comunque questo è l'editing di questa immagine, sono tecniche abbastanza semplici che potete utilizzare nei vostri progetti, io vi invito ovviamente a farmi sapere se avete trovato utile questo video e soprattutto a farmi vedere se realizzate dei progetti utilizzando queste tecniche, sono molto curioso, i commenti vi aspettano. Bene, come avete potuto vedere c'è una bella differenza tra il prima e il dopo, in questo caso non è stata fatta una grossa post produzione sulle persone, né una color correction, né un fotoritocco assolutamente pazzeschi, quello che è stato fatto è proprio un lavoro di direzione artistica, ovviamente sotto la supervisione della band. Tenete conto che a me piace molto lavorare per questa band per un motivo semplicissimo, perché loro sanno esattamente quello che vogliono, loro hanno un'idea molto chiara di quella che deve essere la loro immagine, gli piace come lavoro io, quindi mi danno abbastanza carta bianca, però sanno quello che vogliono, quindi quando c'è una cosa da modificare, quando c'è una roba da spostare, una cosa che volevano in un altro modo, me lo dicono e mi dicono esattamente come modificarla, quindi è molto meglio lavorare per un cliente che sa quello che vuole, perché se il mio cliente sa quello che vuole, me lo dice, e vi faccio un esempio di una cosa che mi successe con un altro cliente, di cui non faccio il nome, ma tanto se vede il video capirà di essere lui e spero che si faccia una risata. Mi reco presso una location scelta dal cliente, la location è una sorta di una serra, una casa di vetro, quindi immaginatevi uno scheletro di metallo con le finestre, siamo dentro in una casa fatta completamente di vetro, sono solo finestre. Ci troviamo lì dentro, cominciamo a montare per il videoclip e dopo una mezza giornata di riprese, il cliente mi chiede di fargli vedere alcuni dei frame che sono stati catturati e io gli faccio vedere, gli dico, guarda sta venendo così, così e così, abbiamo un bel controluce molto accentuato su cui si stagliano le vostre silhouette nere, perché è così, cioè se il di fuori è molto luminoso avremo chiaramente una situazione di contrasto molto accentuato, cioè se io mi metto contro sole si vede la silhouette e lo sfondo rimane molto chiaro. A quel punto il cliente candidamente mi guarda e mi dice, no allora è bello, però io stavo pensando, ma se facessimo lo sfondo nero, tipo che sembri una notturna, ecco capito? Questo è proprio il sintomo di quando il vostro cliente non ha la minima idea di quello che vuole, perché voglio dire, la location l'ha scelta lui, io mi sono adeguato volentieri per carità, perché la reputavo valida come location, però una location fatta di vetro in pieno giorno e dico, non posso farti lo sfondo nero qui, cioè io non ho il potere di farti lo sfondo nero qui, cioè bisogna far calare un telo da un elicottero per coprire quest'edificio se vuoi lo sfondo nero qui dentro, oppure dovevamo girare di notte se volevi lo sfondo nero qui dentro, comunque si sarebbero visti i lampioni, cioè se vuoi lo sfondo nero si fa un'altra cosa, si fa da un'altra parte, capito però il disagio di trovarsi con un cliente magari che a metà lavoro ti dice, come mi è capitato un paio di volte, un cliente che mi dice a lavoro pressoché terminato, gli si presenta una cosa e il cliente candidamente dice, no è bello, però io pensavo che venisse più blu, come più blu? Eh io mi ero immaginato con del blu, cavola dico, io ti ho chiesto cosa volevi, perché lo chiedo sempre, perché per evitare situazioni di questo tipo io lo chiedo, dico cosa vuoi, guardami nelle palle degli occhi e dimmi cosa vuoi. Se il cliente mi dice fai tu, eh faccio io, certo che se a fine lavoro uno mi dice lo volevo più blu, ecco sì, cioè io adesso il blu te lo posso inserire in post produzione, però se me lo dicevi che volevi il blu, cioè guardate, questo, questo è blu, vedete, vedete il blu, io te lo faccio il blu se me lo dici, vero però in camera, blu fatto bene, te lo ragiono, te lo penso, decidiamo una soluzione, se dopo a lavoro terminato io ho fatto tutto con lo sfondo rosa e tu mi dici, eh però io pensavo che venisse più blu, eh porca miseria, abbiamo un problema, me lo dovevi dire prima che era blu, perché io adesso per trasformare quel rosa in blu faccio fatica e tutto il lavoro ne risente, viene tutto peggio, perché io per trasformare un rosa in un blu devo distruggere tutta l'immagine che ho catturato, viene una porcheria, era sufficiente parlarne prima, si faceva uno sfondo blu, quindi io adoro lavorare per questa band perché mi dicono subito quello che vogliono e se c'è qualcosa da modificare mi dicono subito come modificarlo, quindi io lavoro più in fretta, lavoro meglio, il risultato è coerente perché loro sanno quello che vogliono ma hanno anche un gusto nel chiedermi le cose, quindi viene fuori un lavoro fatto bene, niente siccome mi è stato chiesto da un mio follower di realizzare un contenuto a questo proposito, eccolo qua, e a questo punto a me non resta altro da fare che invitarvi a mettere un like a questo video perché sono sicuro che qualcuna di queste tecniche me la ruberete, la userete nei vostri progetti, iscrivetevi a questo canale così non rischiate di perdervi i prossimi video e imparerete qualcosa anche dai prossimi, a questo punto non mi resta che darvi appuntamento proprio a uno dei prossimi video, ragazzi ciao! 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 Grazie a tutti.